Saranno le strade del campionato italiano assoluto rally ad ambientare la programmazione sportiva di Gian Andrea Pisani, pilota portacolori della scuderia pistoiese Jolly Racing Team. Il driver, tra i protagonisti del confronto tricolore dello scorso anno, ha sciolto le riserve ufficializzando la propria partecipazione alla massima espressione realistica nazionale, al volante della Peugeot 208 Rally 4 messa a disposizione dal team Laserprom 015, esemplare, equipaggiato con pneumatici Michelin. Sei gli appuntamenti che il pilota affronterà con l'obiettivo di elevarsi ai vertici del confronto valido per il titolo due ruote motrici, il Rally Il Ciocco, il Rally di Alba Regione Piemonte, la Targa Florio, il Rally di Roma Capitale, il Rally Mille Miglia ed il Rally Sanremo. A condividere la stagione sportiva del driver di Jolly Racing Team, che prenderà il via a marzo sulle strade del Rally Il Ciocco, sarà Fabrizio Vecoli, confermato nel ruolo di copilota.